sembrava una giornata di serie a tranquilla no poteva potevamo immaginarcela anche noiosa e invece ragazzi abbiamo visto tutto e il contrario di tutto dall'inferno al paradiso e dal paradiso all'inferno il passo è breve ma tifosi del lecce mi dovete ringraziare perché ho fatto una gufata di quelle clamorose e alla fine come sempre si è verificato il contrario se volete vi metto le prove su tiktok su instagram dipende tutto da voi scrivetemi lo voglio le voglio bentornati e ben ritrovati vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo video per continuare a supportare i miei contenuti calcistici ormai lo sapete è gratis lasciare mi piace potete anche iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblico qualcosa ovviamente questo non è l'unico canale di calcio che ho ne ho anche un altro oggi su quel canale ho tirato fuori un argomento particolare interessante se siete interessati i canali ormai lo sapete li trovate tutti in descrizione o compariranno qui durante il video compreso il canale youtube extra calcio dove oggi uscirà il post gara di formula 1 su quel canale non faccio solo quello e lo sapete partiamo rapidamente da salernita naudinese perché voglio parlare ovviamente di tutte le partite che non ho ancora analizzato e io devo fare ragazzi i miei più sinceri complimenti a questa salernitana perché ribaltare una partita da 2 a 0 perdevano 2 a 0 e vincerla addirittura 3 a 2 è un qualcosa di incredibile qualcuno dirà eh sì ma ma virgola però è facile vincere e ribaltare le partite quando viaggi in posizioni tranquille di classifica no e quando c'hai il pepe nel sederino o il peperoncino che se vede effettivamente no con la poca tranquillità che una squadra potrebbe avere quello che sa effettivamente fare la pressione può fare la differenza e sono d'accordo con voi ma ragazzi la salernitana nella seconda parte del stagione da quando è arrivato Sousa ha dato una svolta incredibile punticino per punticino hanno costruito una salvezza capolavoro permettetemi di dirlo per come poi se stava a mettere la stagione con Nicola ce lo ricorderemo tutti quanti l'Udinese ha l'obiettivo dei 50 punti no e per farlo ovviamente oggi gli servivano punti pesantissimi Udinese che ha un po' da rivedere quelle che anche no sono le programmazioni in ottica prossima stagione perché ormai sono salvi già da un pezzo anche loro avrebbero dovuto avere la tranquillità no per affrontare questa partita in maniera diversa ma in realtà l'avevano indirizzata bene il problema è che se sono persi per strada però insomma due squadre che viaggiano in situazioni di tranquillità dall'Udinese terza sconfitta consecutiva ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più so curioso di vedere la salernitana della prossima stagione ve lo dico proprio onestamente perché qua parliamo di una squadra che secondo me può fare grandi cose se riescono ad alzare la sticella anche col calciomercato lo spezia che ragazzi perde 4 a 0 col Torino e che ovviamente si giocherà la salvezza col Verona al photo finish all'ultima giornata staremo a vedere quel che accadrà io vi ricordo che in caso di parità punti se fanno tutte e due lo stesso risultato o stesso segno c'è sta lo scontro diretto quindi là veramente sarebbe una cosa assurda barra clamorosa barra esagerated ma il Torino ragazzi veramente ha in quest'ultima parte di stagione ha cambiato secondo me marcia li vedo più consapevoli li vedo più bravi poi chi ha visto la partita sa che hanno fatto 4 diri nello specchio 4 gol perché è questa la realtà dei fatti nello specchio hanno fatto 4 diri e hanno fatto 4 gol sono stati superiori allo spezia però ecco hanno cambiato marcia per la prossima stagione possono guardare al futuro in maniera sicuramente più positiva non mi dilungo più di tanto perché se non non riesco a parlare di tutte le squadre o comunque ci riesco ma esce in video dei 75 minuti ma il Verona che si fa riacchiappata all'Empoli all'ultimo all'ultimo secondo ragazzi ma ma ne vogliamo parlare il Verona vincendo avrebbe ovviamente no drasticamente aumentato le possibilità di salvezza o se sarebbero salvati salvati mi sa de no perché sarebbe stato più 3 no però comunque aumentavano drasticamente le possibilità di salvezza se sono fatti riacchiappare all'ultimo secondo utile 90 più 6 contro una squadra che in questo campionato non ha più niente da dire ma è giusto che sia così ragazzi perché l'Empoli non deve regalare le partite a chi per loro non devono regalare le partite agli altri devono giocare fino all'ultimo devono onorare il campionato fino all'ultimo quindi io gli do merito di questo hanno fatto quello che dovevano fare e il discorso ovviamente salvezza ragazzi lo ripeto se ne riparla all'ultima partita spezia 31 Verona 31 la differenza Monza Redi ovviamente è leggermente differente però ripeto ci sarà lo scontro diretto parliamo rapidamente del Lecce e anche in Monza Lecce ragazzi è successo tutto il contrario di tutto veramente dall'inferno o quasi al paradiso il passo è breve perché poi danno 10 11 12 13 minuti di recupero ma all'ottantaquattresimo il Monza sbaglia il calcio di rigore che gli avrebbe regalato una vittoria e che avrebbe inguaiato comunque il Lecce no in ottica salvezza barra retrocessione lo sbagliano il rigore la palla non entra e Colombo al 101 al 101esimo minuto segna il gol salvezza un qualcosa veramente di incredibile solo a pensarlo quindi Lecce che riesce a salvarsi con una giornata d'anticipo e alla fine complimenti a loro seppur con un pizzico di fortuna se così vogliamo dire però sono curioso di vederli anche per la prossima stagione in serie a vedremo quello che che saranno in grado di fare hanno fatto esperienza in questa annata in questo campionato poi ovviamente vedremo per la prossima stagione e Bologna Napoli ragazzi una partita anche questa comunque glamorosa e ricca di colpi di scena perché poi Skorupski ti fa ti commette un errore grave è un errore pazzesco no impossibile anche solo a pensarlo ma ne vediamo sempre più spesso regala praticamente un gol a Victor Rosimane addirittura il Napoli nel secondo tempo al 54esimo fa il 2 a 0 sempre con Rosimane sempre più lanciato a vincere la classifica a Marcadoni mi pare che c'ha un più 4 da Lautaro Martinez quindi salvo clamorosi ribaltoni nell'ultima giornata meritatamente secondo me che si porta a casa il titolo di capocannoniere e mi sono perso nei meandri nei miei discorsi ma in Napoli ragazzi quando sei sul 2 a 0 per quanto poi per loro sta partita contava veramente come er due dei picche quando come er due dei bastoni quando comanda Denara a briscola però ecco non mi aspettavo un Napoli che alla fine si fa si fa rimontare da questo Bologna a cui non voglio mancare ovviamente dei rispetto perché hanno dimostrato di essere una grande squadra Tiago Motta ha messo in piedi un gruppo ha dato continuità e li ha allenati veramente bene con i suoi dettami tattici ha tirato fuori veramente il meglio da questo Bologna ecco è un premio diciamo a questa stagione per il Bologna questo pareggio contro il Napoli che ripeto comunque non si stava a giocare assolutamente niente però da 2 a 0 si è sempre fatto rimontare nel senso che si è fatto pareggiare i conti Ferguson e De Silvestri forse gollini un po' un po' da rivedere io più che altro ecco vorrei sapere voi che cosa ne pensate nei commenti il Napoli adesso al massimo può raggiungere vincendo l'ultima partita rimasta quota 90 punti quindi il record che aveva messo non lo può superare quindi l'ultima giornata di campionato per il Napoli sarà sicuramente ancora meno importante no però le possono considerare come delle partite di allenamento per cercare poi di programmare di guardare al futuro ma deve essere così un po' per tutte le squadre in realtà quelle che stanno a giocare più niente io voglio sapere da voi innanzitutto vabbè zona champions come si mette ma soprattutto chi se salva e chi retrocede complimenti a Lecce che è riuscito a salvarse all'ultimo per rotto della cuffia io vi ringrazio per la visione e come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi